Eccoci qua, come riconquistare l'ex. Se vuoi riconquistare l'ex, segui questo video, o riconquistare l'ex o una persona che si è allontanata comunque. Prima però, ovviamente, iscriviti al canale YouTube, ovviamente Massimo Taramasco, e iscrivendoti al canale YouTube, attiva anche la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Quindi, iscriviti al mio canale YouTube Massimo Taramasco, ma anche agli altri miei canali, crescita personale con Massimo Taramasco, felicità, benessere, amore, autostima. Ma veniamo al tema, come riconquistare l'ex. Ci sono molte persone che vogliono riconquistare l'ex, e quindi cercherò di dare qualche dritta, qualche indicazione su come agire, come fare per riconquistare l'ex. Beh, intanto, la prima cosa che dovresti chiederti, ci sono alcune cose molto importanti. La prima è se vale veramente la pena di riconquistarlo, perché se tu hai lamento fuscato dalle emozioni, in quel modo lì sicuramente non vale la pena riconquistarlo. Quindi, devi metterti il cuore in pace. Se tu vuoi riconquistare l'ex, devi necessariamente staccare prima la testa, perché se non stacchi la testa, non saprai mai intanto se vale la pena riconquistarlo e non riuscirai neanche a riconquistarlo. Quindi, devi fare quello che io chiamo no contact di 21 giorni, ma deve essere fatto un no contact reale, reale. Devi metterci dell'impegno per farlo. Cosa vuol dire? Questo è il primo passo per poterlo riconquistare e per capire automaticamente se avrai voglia di riconquistarlo, se varrà la pena dedicare le energie per riconquistarlo. Questo è un altro punto importante, perché non è che tu vuoi riconquistare assolutamente. La prima cosa che devi fare quindi è, anche magari inizialmente stando male, ma devi creare un no contact. Il no contact di 21 giorni, 21 giorni effettivi, quindi tutto il preliminare, diciamo, non si conta. Cioè, no contact deve essere 21 giorni in cui tu dedichi le tue attenzioni ad altro, in cui non dedichi nessuna attenzione a quella persona. Questo è il vero no contact. Cioè, che non vai a spiarlo sui social, non vai a vedere lo stato Whatsapp, non gli dedichi pensieri. E se ti viene un pensiero di questa persona, gira il pensiero da altre parti. Questo è, no? Nel momento in cui ti viene il pensiero da lì, dedichi da altre parti. Impegnati sul lavoro, impegnati nella professione, impegnati nelle passioni, insomma, impegnati in altro, ma devi avere la tua mente e le tue emozioni saturate d'altro. Quando riuscirai a fare questo per 21 giorni? Ma 21 giorni reali, in cui per quella persona lì non passa nella tua testa, in cui hai dedicato le energie altrove, hai buttato, hai inserito l'energia altrove, soltanto allora potrai renderti conto che veramente il tuo ex, diciamo, te lo sei, come dire, soltanto allora potrai ottenere dei risultati e soltanto allora potrai capire delle cose fondamentali. Non è facile farlo, so che non è facile farlo, ma dobbiamo provarci, perché le cose non facili sono possibili. E questo, dovete imparare questo concetto. Ci sono le cose impossibili e le cose difficili, diciamo così, oppure non facili, che mi piacciono più di difficile. Tutto quello che non è facile è fattibile e quindi dovete farlo, certo. E non è poi neanche così complicata la fine, basta impegnarsi in altro, basta generarsi altre tensioni, generati tensioni sul lavoro. Vuoi dimenticare l'ex? Generati tensioni sul lavoro, perché ti danno emozioni. Inizia a lavorare fortemente, inizia a dirottare la tua mente da altre parti, perché è proprio la capacità di dirottare la nostra mente, di dirottare i nostri pensieri. Noi non possiamo essere schiavi dei nostri pensieri. Cioè, io, come dire, penso all'ex e non riesco a staccare il pensiero dall'ex. E perché non riesco a dirottare i miei pensieri? Dobbiamo tornare padroni a casa nostra, no? Non saper direzionare i nostri pensieri. Nel buddismo si dice che una persona deve tenere la mente ferma dove vuole. E devi stare anche, voglio pensare una cosa, mi metto lì a pensare quella cosa e penso solo a quella cosa per due ore. Questa è un po' la meditazione, no? Meditare vuol dire familiarizzarsi con qualcosa. Quindi è molto importante saper direzionare i nostri pensieri, saper indirizzare nel modo giusto i nostri pensieri. Se diventiamo schiavi dei nostri pensieri, come se qualcuno nella nostra testa pensasse al nostro posto, beh, certo che non riusciremo a fare niente. La nostra vita sarà guidata da meccanismi inconsci, da meccanismi inconsapevoli che non riusciamo a governare. Allora va bene, se uno si arrende a queste cose, va bene. Sarà schiavo, diciamo, di meccanismi che non riesce a controllare, di meccanismi che non riesce a governare. La cosa che invece va fatta è quella di staccare completamente per 21 giorni. Staccare completamente vuol dire completamente. Non vuol dire, ah, ogni tanto vado a vedere, ogni tanto gli mando un messaggino, ogni tanto vado a vedere lo stato WhatsApp, ogni tanto vado a vedere che foto posta, vado a vedere cosa fa. Perché se fai così, quello non è di stacco. Quello è un finto di stacco che in realtà comporta un attaccamento ancora maggiore, no? Quindi il primo punto che tu devi fare, qualunque cosa accada, diciamo, quando l'ex si allontana, quando l'ex si va, è staccare per 21 giorni. E ripeto, per questo stacco totale di 21 giorni magari c'è tutta una fase di preparazione che dura un mese prima. Perché se per un mese non riesci a calibrarti sul fatto di staccarti, quel mese lì non conta, non è no contact. Quello è un contact o un contact parziale. Quello che devi fare appunto è arrivare a un certo punto in cui hai imparato a direzionare la tua mente, hai imparato a concentrare la tua mente altrove, a concentrare la tua mente e le tue azioni, nelle tue passioni, nel lavoro, in quello che ti interessa. Da quel momento in poi, 21 giorni è il no contact effettivo. Passato questo tempo, saprai se quella persona realmente ti interessa oppure no. Perché vedrai le cose in una luce diversa, vedrai le cose in una luce completamente diversa, vedrai certe cose che magari ti sembravano normali e poi ti rendi conto che in realtà forse questa persona non era proprio la persona giusta per te. E si manifesteranno tante cose. Quindi nel 90% dei casi, se uno fa veramente un no contact, come sto dicendo io, ti renderai conto che dell'ex non te ne frega più niente. E anzi, se tornerai a cercarti, lo manderai a stendere. Non ti interesserà neanche più. Nel 10% dei casi invece potresti renderti conto che questo ex ti può interessare ancora, perché di fatto avete valori condivisi, avete diciamo situazioni condivise. Magari nel 10% dei casi potresti renderti conto che potrebbe essere, perché no, la persona giusta. Allora, solo in questo 10% dei casi vale la pena di tentare una riconquista. E comunque, di questi video di questo genere ne trovate tantissimi, sempre su questo mio canale YouTube Massimo Taramasco. Quindi iscrivetevi al canale YouTube Massimo Taramasco, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. E ne ho fatti veramente tante, anche su tematiche di questo genere, che potete approfondire. Anche sugli altri miei canali, Felicità Benessere con Massimo Taramasco, Crescita Personale con Massimo Taramasco e anche Amore Autostima. Quindi, poi chi volesse approfondire, iscrivendosi ai canali e andando a vedere i video, oterà, comunque ce ne sono veramente tanti da guardare, quindi andate a iscrivervi. E quindi, stavo dicendo, una volta che è stato fatto il no contact in questo modo, nel 10% dei casi può valere la pena di riconquistare quella persona. Può valere la pena riconquistarla. E allora, se volete riconquistarla, dovete iniziare con, diciamo, a rendervi conto di una cosa, che la relazione però è finita. Cioè, non potete cercare di riconquistare quella persona andando a rivivere lo stesso tipo di relazione, perché la relazione è finita. Quel tipo di relazione che avevate dovete darlo sempre per morto, per finito. Dovete eventualmente iniziare un nuovo tipo di relazione, un nuovo tipo di relazione con, diciamo, presupposti diversi. Quindi, se volete poi riprendere una relazione con quest'ex che pensate che sia comunque la persona giusta, la cosa migliore che potete fare è quella di diventare la migliore versione di voi stessi, coltivare la vostra autostima, coltivare, in modo tale da poter riprendere una relazione nel modo migliore. Facendo questo, già automaticamente attirerete questa persona, perché poi sarà lui che, non avendolo considerato per 21 giorni, anche energeticamente, anche mentalmente, sarà questa persona qua che vedrete e vi cercherà. È inevitabile, nel 99.99% dei casi vi ricercherà. Perché? Perché vi ricercherà? Per un motivo molto semplice, che avete creato una disconnessione energetica. Il senso di vuoto lo sentirà e sentirà l'esigenza di accertare. Accertare come mai non l'avete cercato, come mai il dubbio assalirà la sua mente, non potrà fare a meno di pensarvi e non potrà fare a meno di cercarvi. A quel punto lì, diciamo, nel momento in cui inizia a cercarti, a quel punto lì devi semplicemente frenzonarlo, trattarlo come amico. Cioè, mi fa piacere che ti sei fatto sentire, perché come amici possiamo rimanere in contatto. E devi subito bastonarlo con una friendzone, devi subito dirgli come amici mi fa piacere stare in contatto. E questo è fondamentale, perché a quel punto lì, nel momento in cui si sente dire come amici, mi fa piacere stare in contatto, gli viene il dubbio. Ma che forse non la trago più, ma che forse non ho più potenziale. E allora avverrà la magia, diciamo, del ribaltamento dell'Ecclesidra. Sarà questa persona che inizierà a volere, diciamo, ricorteggiarti, riconquistarti in qualche modo, dimostrati che non è solo amicizia. A quel punto lì non devi fare l'errore di scodinzolare al primo invito o cedere subito. Perché è ovvio che se tu cedi subito, beh, c'è poco da fare. Dovrai qua iniziare a mettere i vincoli, tutti i video sui vincoli, magari ne farò altri. Adesso non ho voglia di mettermi a parlare dei vincoli, però il discorso dei vincoli è fondamentale. E poi tieni presente che ci sarà anche una percentuale di casi in cui non si farà più vivo. Perché nella vita tutto è possibile. E in quella percentuale di casi, seppur esigua, che non si farà più vivo, Amen, te ne fai una ragione, guardi oltre. Come dicevo nei video, in altri video, è come dire, l'unica cosa che non manca, l'unica risorsa che non manca sulla faccia della Terra sono le persone. Mancano le risorse idriche, mancano i soldi, manca, che ne so, il petrolio, ma le persone non mancano. Perché siamo in un paese, in un pianeta sovrapopolato. Ci sono quasi 8 miliardi di persone. Dicono che nel 2050, purtroppo, arriveremo a 12 miliardi e mezzo, non sapremo più come distribuirci l'acqua. Ci saranno crisi d'acqua da tante persone che ci sono. E allora, vuol dire che l'unica risorsa di cui c'è abbondanza sul pianeta sono le persone. Per cui, che te ne vuol dire? Su 8 miliardi, se uno se ne va, Amen, ne troverai di meglio. E questo bisogna fare solo una ragione, ma non è una cosa così. Perché non viviamo in un paese, in un pianeta, dove le persone sono poche. Uh, ho perso quello, adesso uomini non ce ne sono più. Io sento delle cose allucinanti, no? Persone che mi dicono, dove abiti? A Milano, Roma, città grandi, che ne so, Torino, Genova, eccetera. Ah, non c'è la persona giusta. Ma come non c'è la persona giusta? C'è, ce ne saranno tantissime di persone giuste, solo che se tu sei incapponito su qualcuno, quindi devi liberare, per prima cosa, la tua mente. Comunque, iscrivetevi al canale YouTube Massimo Terramasco, perché troverete più di 23 mila video e potrete, diciamo, divertirvi, imparare delle cose, secondo me, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!